Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi andremo a mostrare un metodo interessante su come mettere i calzettoni da calcio. Questo metodo è utilizzato da molti giocatori dei campionati maggiori come per esempio Bale e Suarez. Come prima cosa dovete prendere il vostro paio preferito di calze sportive che possono essere della Nike, come in questo caso, o di qualsiasi altra marca. Dopodiché prendete i calzettoni della squadra in cui giocate e che di solito usate in partita. Prendete anche i vostri parastinchi con le loro calzine. Infine avete bisogno di un rotolo di nastro adesivo dallo stesso colore dei vostri calzettoni e di un paio di forbici. Adesso possiamo iniziare a tagliare i calzettoni della nostra squadra. State attenti a non tagliarvi né troppo in basso né troppo in alto, ma poco sopra l'altezza della caviglia. Ok, adesso li indossiamo. La prima cosa da fare è girarsi i parastinchi. Poi mettetevi le vostre calze sportive. E coprite tutto con i calzettoni. Ora ripetete questi tre passi anche per l'altra gamba. Come ultima cosa coprite le giunture tra le due calze col nastro adesivo. Stodo adesivo di навер Num Grazie a tutti. Grazie a tutti.